Il lupo, la volpe è il ghiro. La volpe vede un osso e se lo prende. Un lupo vede la volpe e vuole il suo osso. La volpe capisce e si nasconde nella sua tana. Il lupo cerca di stanare la volpe, ma non ci riesce. Il lupo chiede al ghiro un aiuto e gli promette un pezzo di osso. Il ghiro aiuta il lupo e inizia a scavare sopra la tana. Dopo un po', la tana crolla e la volpe scappa, lasciamolando l'osso. Il lupo sale alla volpe e gli prende l'osso. Allora il lupo e il ghiro si dividono all'osso. Morale, il lupo gli fa la forza. Ueeeeeeeeeeeee! Fine! Grazie a tutti